Omnia Bitonto, il sogno continua. Sarà la squadra del presidente Francesco Rossiello a rappresentare la Puglia nei play-off nazionali del campionato di eccellenza e questo è il verdetto emerso al termine della finale del segmento regionale giocata domenica scorsa al Capozza di Casarano. I Salentini, oltre al fattore campo, avevano a disposizione anche due risultati utili su tre sulla distanza dei 120 minuti per proseguire la rincorsa alla Serie D attraverso la porta principale ed invece a spuntarla. Sono stati gli uomini di Pasquale De Candia, grazie a questo rigore molto contestato dai padroni di casa, trasformato da Cosimo Patierno a metà della seconda frazione. Rabbia, Casarano dunque, gioia, Omnia che vince i play-off pugliesi grazie a due colpacci esterni. Prima del Capozza, infatti, i Bitontini avevano espugnato in semifinale, sempre in gara secca, anche la terra battuta del Celestino La Serra di Avetrana con il punteggio di 2-0. Per la prima volta nella propria storia, insomma, l'Omnia si appresta a varcare i confini regionali. Testa, intanto, già rivolta alla doppia semifinale nazionale contro i Lucani del Lago Negro. La gara d'andata si giocherà domenica 20 maggio al Città degli Ulivi di Bitonto. Il ritorno, invece, andrà in scena nel domicilio dei Lucani, chi riuscirà a spuntarla in questo abbinamento poi affronterà nei due appuntamenti della finalissima, fissati per le prime due domeniche di giugno. La vincente dell'altra, semifinale tra i campani della Vis Afragonesi e i siciliani del Città Sant'Agata. Non si disputerà prima di domenica 27 maggio, invece, il play-out di eccellenza Barletta, Unione Calcio Biceglie ed Arradeo, le tre società potenzialmente coinvolte. Dovranno, infatti, attendere l'esito della stagione in Serie D del San Severo, che si giocherà in casa, lo spareggio Salvezza in quarta serie con la frattese il 20 maggio, da non escludere comunque un eventuale anticipo al 19 per la concomitanza con la festa patronale. Se la squadra, allenata da Fabio Di Domenico, confermasse la Serie D, il Barletta sarebbe salvo in eccellenza e il play-out si giocherebbe a Biceglie tra Unione Calcio e Arradeo. In caso contrario, invece, i Salentini retrocederebbero in promozione lo spareggio. Coinvolgerebbe a Barletta i Biancorossi di Franco 5 e i Bicegliesi.